un caro saluto un caro saluto da diego fusaro un caro saluto a tutti un caro saluto a tutti gli amici a tutte le amiche a tutti i nemici a tutte le nemiche che si collegano con noi per questa diretta quotidiana diretta che more solito si chiama il parresiasta e che ha come obiettivo quello di pensare criticamente il parresiasta nella grecia classica era colui il quale sbottava la verità in faccia al potere come di oggi nel cinico ed è quanto anche noi nel nostro piccolo proviamo quotidianamente a fare benvenuti nella nostra diretta che va in onda su tutti i nostri canali social su facebook e su instagram su tiktok e su telegram abbiamo creato su youtube abbiamo anche creato un canale whatsapp che potete facilmente trovare digitando filosofico.net slash whatsapp www.filosofico.net slash whatsapp vi ricordo anche che è uscito il mio nuovo libro che si chiama sinistrash contro il neoliberismo progressista una critica sferzante di una sinistra che ha tradito marx gramsci i lavoratori ed è divenuto un fenomeno trash da cui il titolo sinistrash della destra mi occupo meno perché non mi interessa non ho mai avuto speranze nella destra che da sempre parte del potere la sinistra ha tradito il suo compito ed è divenuto un fenomeno trash da cui il titolo sinistrash allora grazie a chi lo sta leggendo da dove partiamo oggi per commentare il nostro concitato e tumultuoso presente partirei da una notizia che si trova sul fatto quotidiano e che ci spiega che ad arricchirsi soprattutto dalla guerra in ucraina sono gli stati uniti d'america e segnatamente l'industria bellica chi l'avrebbe mai detto mi verrebbe spontaneo commentare l'avreste mai detto voi che ad arricchirsi in questa guerra erano loro gli stati uniti d'america e noi che pensavamo che agissero sempre solo per il bene dell'umanità per la democrazia e per i diritti e invece adesso dolorosamente scopriamo senza davvero averne mai avuto la minima contezza o il minimo sospetto scopriamo che c'è anche l'interesse della guerra da parte degli stati uniti proprio così gli stati uniti stanno arricchendosi sulla guerra in ucraina e forse qualcuno malignamente potrebbe dire che anche in altre guerre hanno fatto altrettanto ecco e quindi anche sotto questo riguardo probabilmente qualche dubbio legittimamente può sorgere in noi che dopo tutto con la formula di prezzolini ci chiamiamo gli apoti quelli che non se le bevono tutte e quindi partiamo da questa notizia un po' curiosa un'altra curiosità riguarda il fatto che nei giorni scorsi Vladimir Putin il presidente della federazione russa ha detto aperti sverbi di preferire Biden a Trump proprio così ha detto che Biden ha più esperienza e dunque meglio di Trump sembra quasi una battuta dire il vero sembra un'uscita comica di Putin anche perché nei giorni precedenti Biden aveva riempito di insulti Putin avete sicuramente notato avrete avuto contezza e notizia di questo Biden ha definito Putin un pazzo figlio di P non dico per intero l'espressione per carità di patria comunque quale raffinata dialettica sempre Joe Biden squaderna e scodella del resto Biden che parla con amici immaginari che ritiene di aver incontrato Mitterrand che in realtà è morto da anni invece ha incontrato ha incontrato Macron ecco proprio lui Biden dice che Putin è un pazzo ma quanto a follia non saprei a chi debba andare la palma d'oro in ogni caso Putin in maniera forse scherzosa non lo so ha detto che preferisce Biden a Trump vero è che Putin sa benissimo che Biden e Trump poco cambia sono le due facce della medesima medaglia dell'imperialismo plutocratico statunitense del resto bisogna sfatare il mito che gli Stati Uniti con Trump cambiano passo chiunque abbia un poco di memoria storica sa che Trump ha deregolamentato la finanza nel 2017 quindi ha fatto il più grande regalo possibile alle banche e alle classi dominanti altro che amico del popolo Trump Trump rispetto al quale dico sempre peggio di lui c'è solo Biden ebbene e quindi ripetiamolo peggio di Donald Trump c'è solo Joe Biden o se preferite Hillary Clinton però questo non fa di Trump un salvatore un redentore un benemerito patriota Trump è semplicemente un'espressione del capitalismo americano anche se preferibile rispetto a Biden ecco fatta questa premessa c'è un'altra notizia che mi preme sottolineare perché adesso alcuni ricercatori si stanno battendo per far cambiare i nomi dei dinosauri proprio così una priorità fondamentale direi perché hanno scoperto che i nomi dei dinosauri sono poco inclusivi sono maschilisti un po patriarcali e quindi la priorità è quella di far cambiare i nomi dei dinosauri che peraltro come noto si sono estinti non l'altro ieri ma da parecchio tempo però tra le priorità del nuovo ordine mentale e linguistico politicamente corretto come sapete ci sono le rivoluzioni dell'asterisco e le riforme dello schwa e quindi cambieranno il nome dei dinosauri prossimamente la notizia si trova sul sussidiario anche sul giornale insomma poco entusiasmante questa situazione però questo è l'ordine dominante per cui bisogna cambiare il nome dei dinosauri come vedete e poi c'è lui Elon Musk il plutocrate transumanista multimilionario e sostenitore del capitalismo più accelerato e più spinto che adesso sta per lanciare una missione sullo spazio Elon Musk vuole colonizzare lo spazio ed è pronto a mandare tantissimi colonizzatori sullo spazio insomma sta preparando il campo per spedire sullo spazio chissà chi non è difficile immaginare chi vorranno spedire nello spazio i plutocrati neoliberali magari spediranno quelli che sono poveri o spediranno quelli che pensano diversamente rispetto ai loro piani insomma potrebbe essere una prigione cosmica Marte utilizzata come prigione cosmica chi lo sa per liberarsi dei dissidenti o di tutti coloro i quali non risultino graditi all'ordine neoliberale deve spedire qualcuno nello spazio si domanda nella chat qualcuno ma è così c'è scritto sui giornali cioè che sta preparando una missione per colonizzare Marte fa un po sorridere perdonatemi è davvero lo scenario è quello di metropolis di lang non so se l'avete vista quella pellicola storica in cui negli abissi abitano i reietti gli ultimi sottoterra la parte sotterranea di metropolis e adesso la parte di metropolis sotterranea si trasferirà nello spazio su Marte forse e poi c'è la vicenda un po così un po da civiltà dello spettacolo spinta che è la vicenda di Fedez e Ferragni che si sono lasciati e chi se ne importa verrebbe spontaneo commentare però si parla solo di quello sui giornali Fedex ormai è un ex quindi Fedex lo chiameremo con tutto il rispetto del caso e a quanto pare Ferragni è stata scaricata oltre che da molti marchi che non avevano apprezzato la vicenda della beneficenza al noto panettone adesso anche Fedez la scaricate diventa Fedex l'ex della Ferragni e però la Ferragni sarà da Fabio Fazio nel noto salotto pluralistico di Fabio Fazio il prossimo domenica dopo tra due giorni quindi sarà lì nel nel salotto di Fabio Fazio a sermoneggiare a farci magari qualche lezioncina sul fatto che quello che ha fatto con la beneficenza l'ha aiutata a crescere anzi dovremmo ringraziarla perché ci ha impartito una bella lezione su come ci si può redimere lancio qualche idea provocatoria ma magari davvero si andrà in quella direzione non c'è più nulla di cui stupirsi veramente nel mondo in cui ci troviamo a vivere non mi stupirei davvero se Chiara Ferragni ci spiegasse che dobbiamo esserle grati perché ci ha fatto capire come vanno le cose come bisogna correggersi se si sbaglia in ogni caso la società dello spettacolo ci tedia con questa vicenda infinita e ne parleranno chissà per quanto tempo ancora io lo cito soltanto questo episodio non voglio sprecare altro tempo su questa vicenda che mi permettete di dire un po' surreale e anche un po' inutile per certi versi intanto la Cina dal suo pieno sostegno ai palestinesi supporta pienamente i palestinesi la Cina e questa è una buona notizia la Cina continua a rivelarsi un faro di resistenza all'imperialismo statunitense la Cina supporta pienamente la causa palestinese e diamo con gioia questa notizia perché evidentemente Xi Jinping non sbaglia un colpo direi che per ora Xi Jinping è il più intelligente e lungimirante di tutti i politici esistenti sullo scenario globale sta agendo con grande intelligenza sta favorendo gli accordi di pace che gli Stati Uniti respingono sempre ovviamente con l'Ucraina sta difendendo la causa dei palestinesi e fa benissimo a farlo anch'io supporto pienamente nel mio piccolo la causa palestinese e mi schiero apertamente contro quello che sta accadendo a Gaza un vero e proprio massacro di civili sta avvenendo un genocidio dicono taluni insomma è impossibile tacere di fronte a quello che sta accadendo a Gaza ed è penosa a mio giudizio la posizione della comunità internazionale che poi un altro nome con cui l'Occidente qualifica se stesso e che di fatto rivela una volta di più come l'Occidente pretenda di comandare il mondo l'Occidente che poi è in realtà la longa manus di Washington l'Occidente è una grande colonia degli Stati Uniti tra l'altro ci fanno credere che la minaccia per la pace nel mondo sia la Russia di Putin e poi gli Stati Uniti hanno centinaia di basi militari sparse per il mondo e fanno la guerra ogni volta in nome dei diritti e della democrazia dicono ma forse in ragione della loro politica di potenza e del loro interesse economico come abbiamo detto anche al principio di questa nostra diretta vi ricordo anche i prossimi appuntamenti in presenza ci vediamo sicuramente il 13 di marzo a Udine per una serata con Paolo Borgognone e Cosimo Massaro ci vediamo il 14 di marzo in provincia di Treviso per una serata sul coraggio poi ci vediamo ancora il 17 di marzo a San Severino Marche nelle Marche appunto con Marcello Veneziani per una serata su Destras e Sinistras la politica al tempo del trash se volete anche voi organizzare una serata con il sottoscritto una cena platonica una conferenza la presentazione di un mio libro magari l'ultimo Sinistras contro il neoliberismo progressista edito da PM potete scrivermi basta andare su www.filosofico.net alla voce contatti www.filosofico.net grazie a chi sta leggendo i miei libri come Sinistras o Demofobia o Odio la resilienza o ancora Storie e coscienza del precariato pensare altrimenti insomma i miei libri grazie a chi li sta leggendo li trovate in tutte le librerie anche in quelle digitali ma io consiglio sempre di prendere i libri nelle librerie reali per far circolare l'economia di prossimità se ritenete utile ciò che facciamo uso il noi perché siamo un gruppo pugnace di lavoro il cui motto è liberi di sapere di far sapere ebbene supportateci potete supportarci facilmente al costo di un caffè al mese abbonandovi anche in questo istante alla pagina instagram o alla pagina facebook o al canale youtube al costo di un caffè al mese supportate il nostro pugnace gruppo di lavoro in più avete accesso a contenuti riservati agli abbonati oppure potete fare libere donazioni con paypal o con bonifico da www.filosofico.net slash sosteneteci www.filosofico.net slash sosteneteci liberi di sapere di far sapere il nostro motto io vi ringrazio dell'attenzione auguro a tutti un buon fine settimana ci aggiorniamo presto con nuove dirette e già che ci siete visitate anche il mio blog rinnovato diego fusaro.it www.diego fusaro.it un caro saluto a tutti da diego fusaro grazie a tutti